Vi ricordiamo prima di cominciare questo video di lasciare un bel pollicione, di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti e di attivare la campanellozza per essere sempre aggiornati sui nostri prossimi caricamenti Ah! Allora ragazzi io sono Flank e io sono Nex e bentornati sul canale Oggi siamo qui di nuovo ragazzoni sul video E' un nuovo video che si chiama fare un uomo così molto molto invasivo se vogliamo chiamarlo così Oggi andremo a fare la giornata al mare Visto che c'era solo ho pensato bene di andare a fare una bella nuotaria Ma facciamo un altro episodio a Tony dopo il duck hunting Che chiamiamo a Tony? Fattiamo una cosa cominciamo subito con la like challenge dove di chi spiego cosa facciamo Ragazzoni facciamo subito una bella like challenge perché quest'oggi mi piacerebbe poter riuscire a lasciare il mi piace utilizzando Oddio ragazzi il quarto dito del piede E se adesso riuscire a lasciare il mi piace in questa maniera commentateci sotto con Deodorospo Ragazzoni Deodorospo e noi saremmo come se non riuscire a lasciare il mi piace in questa maniera E il Deodorospo è quella cosa che ti spruzzi ma invece di nicosare e di darti il Deodoranate ti sputa come le rane Cosa faremo ragazzi quest'oggi? Quest'oggi andremo a scoprire dei posti misteriosi e nascosti su GTA delle cose segrete Che funzionano nella versione offline ma anche nella versione online Potrebbero tornare veramente molto utili nel caso siate in quella zona in quel preciso istante C'è uno che vuole uccidervi Non sapete come turlupinarlo e con questi mosti strani molto strategici potreste riuscire ragazzi tranquillamente a rarlo Perché comunque lui non vi trova e voi lo devastate male Cioè in cristico nel modo meno scientifico ma più esplicativo possibile E' così partiamo perché altrimenti questo video dura 2 milioni di secoli VAMONOS Il primo posto è quale sempre? Il primo posto è qua Per farlo gli dico subito che ci vuole un car armato Non andateci senza perché senza non riuscite a fare niente Tranne che a migliorare le montagne E se vi capita prendete un fucile che andate a cacciare i cervi Eccolo qua il nostro bel car armato Cosa ci servirà sto car armato? Sicuramente No non a far da canti con il car armato perché non serve a niente Non vi rimane niente tranne che l'anatra già cotta In pratica come Scrivete sotto nei commenti che vogliamo Un episodio dobbiamo convincere Flayne ad andare a caccia di anatra Un episodio intero dove facciamo caccia di anatra Nessù? In pratica con il car armato dobbiamo andare qua dove c'è la scritta 5 Dobbiamo riuscire a incastrarci a modo Riuscire a fare una sorta di imbuto che ci permetterà poi di entrare nell'edificio di animale Ma è possibile entrarci? È possibile entrarci C'è un modo appunto che ci permette di entrare qua dentro Come state vedendo il car armato non può riprodurci con l'edificio Quindi è inutile che provi a fare le cose E tanto non ce la fai fare i car armatini mini panzer che girano No Una volta preso il car armato in questo modo Adesso ragazzi io ci provo un paio di volte Poi è abbastanza difficile funziona anche nella versione online ovviamente Se ce la faccio bene altrimenti vado con lo spawn Comunque intero dovrebbe funzionare In pratica il car armato spinge da una parte che non può essere spostato in alcun modo Con la corsa dovremmo come vedete qualche parte del corpo entra dentro l'edificio Ecco a un certo punto dovremmo riuscire a passare di là Adesso non so come diavolo si faccia Ho letto una guida mi pare Che si potesse fare in questo modo Però ragazzi vi ripeto io ci provo un paio di volte Però la cosa nascosta è al di là di questa parte Se non ce la facciamo entrare in questo modo Proverò con lo spawn Però comunque ragazzi il metodo per entrare è questo Ma vedete appunto più siamo schiacciati più ci spinge dentro l'edificio Cosa diavolo sta succedendo? Ha fatto tutto da solo Vi giuro che io non l'ho fatto Io sono entrato le caramate e basta Come hai fatto ribaltarti che non c'è niente Ti giuro non so se c'è qualcosa che spinge da sotto Ma ti giuro che mi hai impennato e mi sei ribaltato così a caso Non l'ho stato sparato io Sono le scatole dell'Ikea lì sotto Dici che c'era la rivolta delle scatole da imballaggio Ragazzi è successo mi sono rotto le palle Andiamo con lo spawner Altrimenti non arriviamo mai adunque Visto che sono tanti posti che voglio mostrarvi Non ce la facciamo più In pratica dobbiamo Ecco entrare Non siamo qua che ci sei sminchiato lo spawner Comunque dobbiamo entrare dentro questo edificio Cosa troviamo dentro questo edificio? Il cazzo di niente Ebbene no All'interno appunto abbiamo il laboratorio Quello non si stili cori A parte così usciamo Quindi se vogliete uscire Quindi dite come minchia esco Basta uscire così Ne cazzo siate entrati con il car armato Ha sminchiato Non volevo uscire È vero ma io lo faccio passare per una cosa fatta apposta Così sembro una persona seria Vabbè una volta dentro non ci resta che andare Così in teoria Ok Andiamo verso la roba qua Non uscite dalla mappa in alcun modo Ecco come ho fatto io in questo momento Altrimenti fate che si blocca il gioco Potreste finire in questa zona abbastanza brutta Oddio Non c'è È una zona di scarico È una zona orribile Lasciamelo dire La roba è veramente orribile Ci cambia solo lo suolo che ti piglia Poi siamo a posto No Forse mi fa schifissimo sto posto Siamo di qua prima possibile Eccoci qui appunto Riusciamo a entrare nella zona dell'unica missione Dove si salva appunto sia Trevor che Michael Che è appunto il laboratorio dove La cosiddetta missione folle Esatto La missione dove In pratica li saliamo entrambi Appunto qua non ci sono altri porti Dove andare su e giù Mi pare che ci sia solo l'ascensore Verso la parte finale Che deve essere qua in fondo Non mi ricordo Ma in teoria dovrebbe essere così E appunto Eccolo qua l'ascensore Questo in teoria si apre Ma non possiamo prenderlo E vabbè Qua non c'è qualcosa da tirare Qualche leva Qualcosa strana Non c'è nulla Qua appunto l'ascensore Si parla di tirare un calcio sul pannello Per prendere un tasto Premilo col piede Niente Non funziona Questo è sparta Non funziona sugli ascensori Esatto Quindi è utile provare Però questo è il primo posto Che è possibile visitarlo Anche nella versione online Nel caso riusciate a entrare Tramite schiacciamento Di cararmato Contro la parete Gambate il sistema appunto Di coso solido del muro E riuscite a entrare Non andare nell'acqua Per l'amor di dio Basta Ma appena hai detto Che ti fa schermo Ci torni dentro Basta Assolutamente no Andiamo via di qua subito Ah comunque se finite qua L'unico modo per non saltar nell'acqua È girare sopra Il coso di legno Qua si andiate sul legno Siete salvi Nel caso andiate anche solamente sul cemento Lo vedete genere Mi si incula male Esattamente Adesso si io provo a andare Si si no Adesso si io provo a andare sul cemento Guarda voilà Torniamo in mezzo alla mer Torniamo in mezzo alla mer Ma usciamo di qua che è meglio E di ex Nel momento potete andare a scoprire Il secondo posto Che è decisamente più accessibile Rispetto a questo E basta Ok siamo arrivati Il secondo posto È questo Tu dirai Ma perché mi porti Dove c'è un posto Cosa me ne frega me Di stare sotto un posto Siamo barboni ragazzi Siamo diventati dei porti Barboni Barboni E invece no In pratica In questo ponte c'è un buco Non si vede ma c'è Dove è possibile uscire dalla mappa Grazie mille signore Molto gentile Però avevo bisogno di essere investito L'uomo non si accoppia con le macchine No Non provate più ad esempio una macchina Che no Non funziona All right bitch Come on Signore può uscire Grazie mille Ecco Appunto c'è un buco nel ponte Dove è possibile uscire dalla mappa Anche nella versione online Mi pare funziona anche online Dovrebbero essere totalmente compatibili Con la versione online questi bug Questi buchi Queste falle nel gioco Non è che torna una merba eh No 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 Stavolta no In teoria no Appunto per farlo ci vuole un appoggio In questo caso In una macchina Dove riusciamo a salire Adesso disattivo il coso Il super salto Perché qua non mi serve Dopodiché ragazzi Che dobbiamo fare Dovrebbero semplicemente andare sopra il ponte E cominciare ad saltare Come dei poveri mente cazzi Così a caso Già quando saltiamo così Finché non riusciamo a trovare la falla Non mi ricordo Principalmente dove fosse la falla Mi ricordo che era da queste parti qua O forse Però a tirare caso magari No era più in giù Forse era qua ecco Di arrivare fino in fondo Fate un po' di pulco Ok l'ha preso Perfetto Perfetto Ecco qua E direte ma a cosa serve questo A parte fare il culo A quelli che sono in questa zona Tramite questo Questo passaggio Possiamo arrivare alla stanza D'albergo segreta Che appunto è nascosta Al di sotto Della mappa di GTA Cioè a dire la verità Non è nascosta sotto Della mappa di GTA Proprio detta così Ma in pratica Tramite questa traiettoria Se seguiamo la strada sottostante Una volta arrivati al culmine Se siamo Vedi dove abbiamo queste due case a sinistra Ecco A destra vedi che c'è quella sorta di Coso Di coso ecco Dobbiamo stare Praticamente dalla strada a destra C'è Qua Ecco questo è il punto esatto Proprio qua Se noi riusciamo ad atterrare In questo punto preciso Si porterà nella stanza D'albergo segreta C'è scritto così E in teoria dovrebbe fare così Io in pratica non lo so Comunque raga Il punto dovrebbe essere questo Adesso io non ce la farò mai Perché io ci scommetto Quello che vuoi Ma non lo beccheremo mai Non ne posso più Basta per favore Ok forse No ho sbagliato Sono stato più verso gli edifici Vaffanculo E raga comunque è un teretra sport Cioè non è che se noi prima Andarci con lo spawner Ce lo trova Esempio Se io metto lo spawner E vado giù nel punto esatto Che deve essere questo qua sotto Come vedete Non c'è niente Perché appunto si attiva Quella coda di spawn Che vi riporta in superficie Ma vi porta nel posto Più vicino che trova E in quel caso Voi cadete in quel punto preciso Riuscite ad essere lì dentro Esattamente Adesso ragazzi Se riesco che vi metto anche filmato Sotto di come dovrebbe essere La stanza segreta Non lo so ragazzi È vero Insomma Non ne ho idea Però in teoria dovrebbe essere così In teoria dovrebbe portarlo In quel posto segreto Io te li lascia comunque perdere Questo cosa E andare al prossimo Che è ancora più accessibile Rispetto a questo Molto più easy Ma comunque Avete comunque un buco sul ponte Nel caso siate inseguiti O voletevi dare fastidio Qualcuno sopra il ponte Per comunque i proiettini Mi sembra che possano uscire dal ponte E vi beccate il best trofeo Per l'infamia E poi arrivò la faccina Alla troll face Tipo E polipori tutti Esattamente Passiamo con il prossimo Il prossimo compreto Situato sulla spiaggia E che Ti basta Cos'è Entriamo dentro le prostitute No Entriamo dentro un edificio Che è appunto Questo qua Che fa gli hamburger Ho due auto Una roba del genere Venditore di cipolle Esattamente E direte Cosa devo fare Io qua in cima Rega Questo ho preso Molti lo conoscono già In compagnia Vede dove c'è stato il cartello Non so se c'è scritto Affittasi Oppure assunzione Non ne ho idea comunque Voi dovete saltare dove c'è quel cartello lì Vedete se io salto qua non fa niente Se salto qua invece vuolà Sacrappa Entra dentro al modello Riuscite a entrare Già assunti Già assunti apposta Per essere assunti dobbiamo saltare dentro Scavalcare come fanno i ladri Esatto Adesso voglio provare una cosa Non so se andando di là Mi butta di sotto o meno Proviamo con la tipa A vedere se comunque Ci vogliono le capie Ci vogliono le capie Voglio vedere se insomma È solido o no Perfetto No se si può andare Ok Adesso potete pianificare Qualsiasi azione di terrorismo Che tanto la polizia Non vi può beccare Non vi possono beccare Neanche le persone da fuori In teoria In pratica non lo so Adesso chiamiamo la polizia Vediamo un attimo Cosa Se si tirano ad osso o meno Se vengono a darci il benvenuto Non ne ho idea Comunque mi scusi Buon uomo Non l'ho fatta apposta È anche vero Va bene È anche vero Chi sospetterebbe mai Di un venditore di ciambelle Ok la sbiraglia è arrivata In teoria Noi dopo adorremmo riuscire ad attaccarli Addirittura non mi vedono Non sanno come prendermi Esattamente Il venditore di ciambelle È insospettabile È insospettabile Il venditore di ciambelle Dicono No ma non può essere lui Dai È impossibile Nel caso dunque Ve la vedate brutta Che siate qua Con 30 persone alle calcane Che vogliono uccirvi Che aspettano che voi veniate fuori Cosa potremmo fare? Non ci resta che andare avanti E aprire il paracaduto Scendo dalla mappa E andare nel Insomma Dove volete Io vi consiglio di andare dritti E nel modo più veloce possibile Anche perché nella mappa rata Lo rilevo Che vi state spostando da quella zona Tagliando un po' di distanza Dicendo non so Tipo tirare due missilate Una roba del genere Quindi questo funziona anche nell'online Si si funziona anche nell'online Cioè in teoria Non dovrebbero ancora averlo fixato Non lo so E non ne vediamo in teoria Dovrebbe funzionare Anche nella persona online E niente ragazzi Questi erano i posti strani Di GTA appunto Accessibili Comunque In modo SWAG e ACAB Esatto Ce ne erano altri Con il cararmato Ragazzi Però non ve li faccio vedere Perché li ho provati Ma vedevo proprio Che non riuscivo Quindi va a fanculo Il cararmato Ecco ben bene Con il cararmato Non ha funzionato No non è funzionato per niente Ragazzi Io direi comunque Posso terminare Che in questo video Speriamo comunque Vi sia piaciuto Che vi sia Insomma Servito a qualcosa Viteci sotto Se ne conoscete altri Magari Se ne possiamo provare In prossimi episodi Giustamente E con questo ragazzone Comunque vi invitiamo A lasciare il solito Like Il pollicione Spiegato alla maniera A inizio del video Di guardare i social Che trovate qui sotto Comunque Se siete mettere i commenti Come al solito E niente Questa me Questa te Questa Franklin Iscriviti al canale